Quanto può costare un buon tablet LTE con schermo da 8 pollici, un buon schermo da 8 pollici in una variante Android con un design leggermente rinnovato e che a cui non manca quasi niente? Ve lo dico io, un prezzo reale di meno di 250€. Benvenuti nella recensione di Asus MemoPad 8 nella variante 2015. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di Asus MemoPad 8. Abbiamo già recensito un MemoPad 8, non ricordo se nel 2014 o forse addirittura nel 2013, ma insomma non è questa la cosa importante, questo ha lo stesso nome, quindi dobbiamo necessariamente distinguerlo per il numero o almeno per il nome del prodotto proprio che Asus assegna a questo MemoPad 8 che è MME581CL e questa è la sua confezione. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione, sempre che mi riesca di estrarlo senza distruggere tutto. Qualcosa deve essere rimasto incastrato al suo interno, eccolo qua. Allora, abbiamo già rimasto dalla plastica, abbiamo questo manuale, cavo USB, micro USB, scusate, il pin per rimuovere il carrellino della micro SIM e questo alimentatore da 1A e 35. Mettiamo via la confezione, portiamo dentro il nostro MemoPad 8 ME581CL e andiamo ad analizzarlo. Allora, intanto, anche se posso capire che in videocamera possa sembrare che non sia cambiato granché, il design è leggermente cambiato e devo dire che mi piace. Mi piace perché è un pochino più squadrato, sempre con gli angoli stondati, ma un pochino più squadrato in tutte le sue forme e devo dire che questa soluzione mi piace abbastanza. Qui abbiamo l'indicazione del fatto che sia presente il chip NFC, qui abbiamo ben due speaker stereo sul retro, uno slot per la micro SD che purtroppo però è aperto, quindi non ha uno sportellino per coprirlo e se non mettiamo la micro SD può riempirsi di polvere abbastanza facilmente, non mi sembra un'idea proprio geniale. Abbiamo poi la porta micro USB, certo potreste dire voi, ok, ma la micro USB è sempre scoperta, sì, ma in questo caso possiamo almeno dire che siccome è uno sportellino che non dobbiamo utilizzare tutti i giorni, una copertura ci poteva anche stare. Tasto di accensione bilanciare del volume, microfono, jack audio qua sopra e davanti abbiamo uno schermo da 8 pollici, sensore di luminosità e fotocamera frontale da 1.2 megapixel. La fotocamera principale senza LED flash invece è da 5 megapixel. Abbiamo una batteria da 4000 mAh che offre un'autonomia, devo dire, nella media per questo tipo di prodotti, direi 2-3 giorni con un uso più blando, una giornata e mezzo invece con un uso un pochino più intenso. Dimensioni 213, 123, 7,5 mm, un peso di 299 grammi, quindi possiamo anche arrotondare a 300. Si tiene bene in mano, ho già detto, mi piace questo nuovo design, mi piace questo nuovo profilo più tagliente, per me è assolutamente promosso, la plastica lucida non sarà magari la mia preferita, ma è almeno di qualità un pochino più alta della media, quindi non lo definirei assolutamente un prodotto low cost, è comunque un prodotto che costa abbastanza poco per quello che poi è da offrire, questo adesso lo capiremo. Schermo IPS 1920x1080 pixel, anzi no, mi pare che sia un 1920x1200 pixel, adesso non ricordo con certezza, potrei starmi sbagliando, comunque è assolutamente un full HD, andiamo a vedere magari in Antutu Benchmark che cosa ci dice, in modo da fugare questo dubbio istantaneamente. Ok, intanto vi dico che il processore è un, allora la risoluzione, lo trovo, lo trovo, 1920x1200, lo ho intravvisto da qualche parte. Il processore è un Intel Z3560 da 1.83 GHz, è un quad core, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. In questa fascia di prezzo devo dire che non è facile trovare un prodotto con 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, ma soprattutto con connettività LTE fino a 150 Mbps, perché, non ve l'ho detto, ma qua giù c'è uno sportellino per la micro SIM. Quindi, connettività LTE, non è possibile telefonare, questo probabilmente anche per differenziarlo dai vari phonepad di Asus. Non so cosa stesse facendo. Quindi non può telefonare, può mandare SMS, quindi potete tranquillamente attivarci WhatsApp sopra se volete. Wi-Fi ABGNAC, nella media, non mi ha fatto propriamente impazzire, mi ha dato qualche problemino in più rispetto ad altri prodotti, per esempio ho faticato tantissimo per installare Modern Combat, poi ho riavviato il router e ho risolto. E allora direte voi, ok, ma allora è la colpa del router? Sì e no, visto che comunque con altri dispositivi riuscivo a navigare e scaricare rapidamente senza alcunissimo problema. Bluetooth 4.0 è presente anche in NFC, quindi veramente tutta la connettività che potete volere. Da qui notiamo anche che c'è la possibilità di inviare, dove è Play 2, eccolo qua, quindi tramite Miracast. E poi abbiamo anche il risparmio energetico. Risparmio energetico che tra l'altro ha anche un'applicazione dedicata, oltre che una voce nel menu, che funziona, devo dire, abbastanza bene, soprattutto nella modalità personalizzato, in cui, se riesco ad avviarlo, possiamo abilitare oltre a varie opzioni anche la possibilità di lasciare che le applicazioni che richiedono notifiche push, praticamente le applicazioni di messaggistica, possano continuare a connettersi a internet anche in modalità di risparmio energetico quando lo schermo è spento, altrimenti quando lo schermo si spegne poi le applicazioni non vanno più su internet in background. È una funzione che abbiamo trovato anche sugli altri smartphone di Asus e che ritroviamo anche qui su questo tablet. Oltre a questa cosa, ci sono veramente tantissime opzioni che abbiamo trovato sugli ultimi smartphone Asus, in particolare Zenfone 2, che ritroviamo anche qui. Con uno swipe verso l'alto, infatti, lo vedete, mentre con uno verso il basso aprite le notifiche, abbiamo a disposizione questo pannello gestisci pagina iniziale, che in realtà è molto di più, perché permette di personalizzare veramente tantissimo l'interfaccia di questo tablet, dalle effetti di scorrimento alle icone, ma soprattutto con interi pack di icone da scaricare sul Play Store, che sono veramente tantissimi. Ma addirittura il font con dimensione font e colore del font, quindi potete anche fare delle cose veramente orrende come queste, nessuno ve lo potrà impedire, però almeno avrete un tablet veramente, veramente personale da questo punto di vista. Qui è presente ovviamente Google Now, Google Now non manca, premendo il multitasking avviamo ovviamente il multitasking classico di KitKat, perché Android ha la versione 4.4.4 di KitKat con un tasto Q di tutto. Vi domanderete voi, perché non c'è l'olipop a bordo? Una cosa che non ho menzionato all'inizio di recensione è che in realtà questo memopadotto non è esattamente recentissimo, si trova già da alcuni mesi in commercio, ma soltanto adesso diventa più largamente disponibile, probabilmente suppongo che comincerete a vederlo anche in vari volantini, eccetera, eccetera. È disponibile, come vi dicevo, anche già da svariati mesi, quindi per questo probabilmente non è ancora presente l'olipop a bordo, ma una cosa che mi piace molto dei dispositivi Asus, e che ho già detto nella recensione dei vari Zenfone 2, è che ultimamente Asus ha preso veramente un'ottima piega, aggiorna tutte le sue applicazioni veramente molto molto spesso. Questo tablet, da quando l'ho tirato fuori la confezione a adesso, l'ho utilizzato anche abbastanza, ci ho messo un po' a fare questa recensione, si è arricchito di tantissime funzioni, non tanto per aggiornamenti firmware che ne ho ricevuto uno piccolo appena acceso il tablet, ma soprattutto per gli aggiornamenti delle singole applicazioni, che poi adesso cercheremo di guardare un pochino in maniera sommaria. Andiamo nel browser web di... Asus, allora, non è presente purtroppo la... avete intravisto la tastiera che, devo dire, funziona abbastanza bene, purtroppo non è presente la vibrazione in questo tablet, e quindi non è possibile attivare il feedback haptico alla pressione dei tasti della tastiera virtuale. Questa cosa un po' mi dispiace, perché è una funzione a cui io tengo abbastanza. Allora, il browser è fluido, non fluidissimo, comunque gode di alcuni accorgimenti della... del browser... che abbiamo trovato nei browser di Asus anche altre volte. Quello che mi piace di più di tutti è questa linguetta, che permette di scorrere tutta la pagina con grande rapidità. Premendo qua su, abbiamo anche la possibilità di salvare per la lettura offline, e andrà a finire nell'applicazione Do It Later, questa qua, quindi una to-do list, diciamo. Avete visto lo schermo che forse tendeva lievemente al giallo. Tutto questo può essere... non proprio tutto, ma buona parte può essere leggermente corretto con l'applicazione Asus Splendid, che attiva anche... permette anche di attivare una modalità di colori vivaci, che in questo caso si nota. Altre volte in dispositivi Asus non si notava molto la differenza, guardate la differenza che c'è qui, se riusciamo a mettere a fuoco... attivo, disattivo, attivo, disattivo, attivo. Proviamo a lasciarlo attivato e vediamo se si nota un po' la differenza. Sì, secondo me si nota abbastanza. Ovviamente i colori non sono più così fedeli, ma sono comunque più belli, fanno la loro figura, mettiamola così. Alla fine è Splendid, l'applicazione di Asus serve proprio a questo. Per quanto riguarda la parte gaming, abbiamo allora un processore grafico, con una PowerVR G64-30. Come ho detto nella recensione di Umihammer, ovvero la recensione che ho realizzato appena prima di questa, voglio fare un tentativo e voglio dare una chance a Mortal Kombat 5, a Modern, sì, non Mortal Kombat, ma è Modern Kombat 5, perché è un pochino più complesso dal punto di vista grafico di Asphalt, che ormai funziona abbastanza bene un po' su tutti i dispositivi, e quindi ci può servire a dare un'indicazione un po' migliore. Allora il gioco è molto molto fluido, adesso manderò il mio compare a fare il lavoro sporco per me. Appaiono gli effetti dell'acqua sul soffitto, che su altri dispositivi non appaiono. Non c'è un enorme lavoro di aliasing su questo dispositivo, quindi forse su quello si potrebbe fare qualcosa in più, ma è comunque nella parte più alta di questi tipi di dispositivi. Adesso qui, come vedete, si è disconnesso dal server e non ho idea del perché. Allora, ecco qua, usciamo. Ovviamente è presente anche questa visualizzazione, che tra l'altro forse è anche più comoda per... Ops, è anche più comoda per noi per la recensione, in modo che possa farvi vedere un po' di più di quello che c'è sul display. Allora, la fotocamera da 5 megapixel, prendiamo il nostro Millennium Falcon, eccolo qua, veloce a scattare, la messa a fuoco da vicino non è proprio rapidissima, infatti ho dovuto farlo io a mano. Ci sono degli effetti in tempo reale, ci sono varie impostazioni, 5 megapixel scatta in 4 terzi, i video sono a 1080p, qui abbiamo una discreta selezione di funzionalità, sia per le foto che per i video. Asus si è veramente impegnata moltissimo in questa cosa. Mi piace, devo dire che l'interfaccia fotocamera mi piace, la qualità però è appena sufficiente, non pensate di acquistare questo tablet per fare chissà quale foto. Una novità che non avevamo mai visto su prodotti Asus però, è la possibilità del Dual App, penso che questo nome già vi farà intuire di cosa si tratta. Vedete che questo simbolino qui ci indica che è possibile attivare il Dual App, quindi tengo premuto, trascino da una parte, e dall'altra parte posso scegliere fra un attimo quale altra applicazione avviare, quindi magari possiamo avviare l'applicazione della musica, così vi faccio sentire anche come funzionano gli speaker. Devo dire che funziona abbastanza bene, intanto è abbastanza veloce, l'unica cosa non è possibile scegliere quanto grandi fare queste finestre, quindi le due finestre saranno sempre divise esattamente a metà. Posso riscegliere qua quale applicazione aprire, posso mettere tutto schermo, ridurre icona, eccetera, eccetera, ma non posso ridimensionare, vi faccio vedere anche qui, non posso, anche se vado nelle impostazioni, non posso scegliere di ridimensionare le due finestre. Comunque il sistema rimane abbastanza veloce, andiamo a provare la musica. Volume nella media, potenza nella media, quindi non spacca timpani, nonostante gli speaker siano due, ma comunque, come vi ho appunto appena detto, decisamente nella media. Altre applicazioni di Asus, beh, ce ne sono veramente tante, c'è l'applicazione per il backup, c'è l'applicazione per la lista To Do, che è molto completa, e di molto completo c'è anche Super Note, che è veramente una grande applicazione per prendere le note, abbiamo What's Next, che ci mostra tutti i nostri prossimi appuntamenti, è una specie di variazione sul tema del calendario. Degno di rilievo, c'è Story per realizzare delle piccole storie fotografiche, anche se come ho detto non penso che utilizzerete questo tablet per fare foto, una ottima applicazione Meteo, Movie, Mini Movie per fare appunto dei mini filmati partendo dalle foto, e tutta una serie di applicazioni chiamate Zen Link, che servono a connettersi quasi sempre al PC, PC Link serve appunto per utilizzare il tablet dal PC, Remote Link per usare il tablet come mouse, Share Link per condividere dei link, Party Link invece serve con altri dispositivi Asus, i due bicchieri che fanno cin cin ci danno questa idea, quando siamo a una festa abilitiamo questa funzione sui vari dispositivi, e poi possiamo, diciamo, avere le stesse foto scattate in tempo reale anche sugli altri dispositivi. Abbiamo una, ho detto dispositivi almeno 5 o 6 volte, ma purtroppo al momento a volte i sinonimi proprio non vengono. Abbiamo una modalità semplificata per chi, qui abbiamo anche tra l'altro l'icona del telefono, ma no, non può telefonare, è solo un rifuso e viene da altre schermate Asus. Quindi semplificare l'interfaccia, niente di incredibile, visto che comunque secondo me semplificare l'interfaccia su un dispositivo così grande non ha propriamente senso. Possiamo scegliere dove installare le app. Asus può applicare, ora non c'è una memoria esterna installata, ma Asus può cercare di forzare quando possibile, infatti se è consentito, l'installazione delle applicazioni sull'Sd per risparmiare memoria interna. Quanto costa questo Asus MemoPad 8 ME581CL? è stato lanciato appunto mesi fa a 299€. Noi l'abbiamo preso su ePrice.it dove costa 239€. Sì, certo, ci sono tablet che costano meno, ma ricordatevi di una cosa, questo è un tablet LTE con un buono schermo, un software veloce anche se non aggiornato al Lollipop, NFC, sensore di luminosità, anche tante piccole cose che a volte non si trovano sui tablet più economici. Quindi un 8 pollici, quindi non un 7, delle dimensioni veramente perfette, probabilmente alla fine gli 8 pollici sono la misura più interessante dei tablet, quelli che mettono d'accordo un pochino più persone, visto che i 7 pollici cominciano ad essere un po' piccoli e si avvicinano quasi alle dimensioni degli smartphone. Comunque, ovviamente ognuno sceglie per sé il suo prodotto migliore, ma devo dire che questo MemoPad 8 mi ha convinto veramente tanto e per il prezzo a cui viene venduto è veramente un ottimo tablet LTE. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it